Il Corriere della Sera 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 Adesso 71, però se andate a fare benzina vi siete accorti che insomma il prezzo non è calato. Il primo perché chiaramente si sente le conseguenze, si sentono qualche giorno, qualche settimana dopo perché dal petrolio poi alla trasformazione della benzina il tempo passa e comunque le aziende lo hanno già acquistato e poi perché lo sappiamo in Italia pesano tantissimo le tasse. A pagina 9 del Corriere della Sera si parla del futuro Presidente della Repubblica. Il Premier Renzi prepara l'appello pubblico per cercare un'intesa sul Quirinale. È pronto un invito alle forze politiche per trovare il profilo più idoneo napolitano che potrebbe appunto rimettersi entro la fine dell'anno oppure entro fine gennaio. Ovviamente il Premier Renzi sta già preparando le varie ipotesi, un appello pubblico per trovare sicuramente un nome comune che unisca tutte le forze politiche. E poi la lotta all'evasione, 3,5 miliardi in più, premio ai comuni che collaborano. Il Ministro Padoan dalle privatizzazioni, nuovi posti di lavoro rinviata all'accessione del 6% dell'Enel. Questa è la situazione dal punto di vista economico in Italia. Questa è un'analisi che è arrivata ieri e la notizia più interessante è proprio questa qua. Con la lotta e l'evasione sono stati recuperati ben 3,5 miliardi grazie ad una caccia aumentata. E poi vi segnalo a pagina 15 del Corriere della Sera un'interessante intervista al generale Haftar che combatte il terrorismo che guida in Libia la lotta al terrorismo. Combatto il terrorismo anche per voi. Se vince Libia arriva fino a casa vostra. Parla il leader degli anti-islamici. Non sono un uomo della CIA ma ora mi servono armi. L'Europa si svegli, dice il generale. Quanti italiani sanno che davanti a loro è stato proclamato il califato? Essi tagliano le teste. Davvero questo appello alla mobilitazione, all'intervento in qualche maniera del generale Haftar che fa riflettere. Poi la cronaca che arriva dall'Italia. Camion in fiamme, chiodi e mitra. Assalto da film a tre portavalori. La notizia che già avevamo scoperto in anteprima ieri mattina, buongiorno con noi, bloccata la 1 tra Piacenza e Milano, i rapinatori alla fine sono scappati senza bottino. Ma davvero sono stati attimi di terrore. C'erano molti milioni di euro nel portavalori che i rapinatori volevano portare via. E poi la visita in Turchia di Papa Francesco. Il viaggio del Papa ha rischiato di saltare. Inizia oggi la delicata missione del Pa nel paese di Erdogan. Volevano perfino controllare i suoi discorsi. Caduta anche l'idea di una visita ai campi profughi in Siria e dopo il Presidente è previsto l'incontro con il Gran Mufti. Il dialogo e accoglienza. Bergoglio ama il conflitto. Serve a risolvere i problemi. Così il direttore di Civiltà Cattolica Spadaro e l'esponente islamico argentino Aboua a confronto sulla tappa di Francesco nella più grande nazione musulmana non araba. È davvero una visita importante quella di Papa Francesco in Turchia. E poi una vicenda che fa discutere in Italia. Niente carcere per la cupola dell'Expo. A Milano patteggiano l'ex del PC Primo Greganti, il senatore del PDL Luigi Grillo e l'ex DC Gian Stefano Frigerio, ritenuti il capo. Le pene vanno da 2 anni e 8 mesi a 3 anni e 4 mesi. Appalti pilotati anche nella sanità lombarda. Dunque non è previsto il carcere perché con il patteggiamento della pena non è previsto in base ovviamente alla condanna il carcere. Prima di continuare, in particolare dobbiamo guardare le notizie sportive, vi voglio segnalare un'altra iniziativa. Ieri sera ne abbiamo parlato nel telegiornale, una iniziativa benefica che si svolge questa sera al teatro Alfieri di Castelnuovo. Una commedia, il ricavato però dello spettacolo sarà devoluto ad un'associazione di beneficenza. Andiamo a vedere. L'appuntamento è di quelli da non perdere per due motivi, risate assicurate e la beneficenza sullo sfondo. Tutto pronto al teatro Alfieri di Castelnuovo per Che ni farò le donne? Commedia in tre atti di massimo valori che venerdì alle 21 sarà portata in scena dalla compagnia Invicta con la regia di Cataldo Fambrini. Lo spettacolo, già presentato la scorsa primavera al teatro del Giglio di Lucca con un grande successo, sarà proposto a Castelnuovo in collaborazione con l'associazione Comete. Il ricavato della serata infatti sarà devoluto all'associazione Il Sogno per l'acquisto di una pedana sensoriale. Un'attrezzatura necessaria e importante per le fisioterapiste dell'associazione e praticamente lanciamo una sfida. Il teatro conta 500 posti, per comprare una pedana ci vogliono 2.500 euro, fa devoli dovute proporzioni, penso che il biglietto valga più del costo di un aperitivo. Ha uno spettacolo da non perdere perché è molto divertente, adatto a tutti, quindi adulti e ragazzi, invernacolo lucchese, quindi sicuramente risate assicurate e noi ci piace fare le cose così, con il sorriso. Dunque ricordiamo l'appuntamento questa sera al teatro Alfieri di Castelnuovo alle ore 21. Risate, assicurate perché ricorderete la stessa commedia, l'abbiamo trasmessa anche su Noi TV la scorsa primavera, dopo la prima al teatro del Giglio e quindi insomma un'occasione per ridere ma anche per fare beneficenza. Andiamo a vedere le notizie sportive, la Gazzetta dello Sport con il calcio in primo piano, in prima pagina, ieri il turno di Europa League, quanti regali per Mancini, questo è il titolo, tanti brividi e una festa a San Siro. Nel giorno del cinquantesimo compleanno del tecnico l'Inter in dieci rimonta col Di Nipro 2-1 e vince il girone. Andanovic super, para anche un rigore, decide Osvaldo, Osvaldo che ha segnato il gol decisivo. E poi Napoli avanti con lo 0-0, il Torino no, Benitez soffre a Praga, mentre il Toro è stato fermato dal Bruges. Anche la Fiorentina passa al Guincamp, primo posto sicuro, dunque insomma in generale un giovedì positivo per le squadre italiane. E poi a pagina 13 c'è un focus dedicato ai vari miti del gol e questa mattina si parla di Antonio Di Natale, un personaggio legato a doppio filo con la provincia di Lucca, in particolare con Viareggio. Festeggio con Baggio, poi allenerò alla Zeman. Totò è lo storico traguardo dei 200 gol in A, ho pensato a mamma e papà che non ci sono più. Il mio erede mi piace molto in signe, così Di Natale nell'intervista. Alla Gazzetta dello Sport, se siete interessati, vi ricordo, a pagina 13. Fra l'altro appunto si parla anche della gavetta di Antonio Di Natale, che ha esordito in Serie A con l'Empoli nel 2002, dopo aver giocato in C2 con l'Ipersola e il Viareggio e in C1 con il Varese. Al debutto andò subito in gol. E poi purtroppo le brutte notizie che arrivano dal Brasile, tutti in ansia per Pelé, condizioni instabili. Per Pelé, infezione alle vie urinarie, trasportato in una unità speciale sottoposta a dialisi, le voci non confermate su un piccolo tumore. La salute di Pelé peggiora, scrive la Gazzetta, il Brasile e il mondo sono in ansia. Il più grande calciatore di tutti i tempi, Maradona di Stefano permettendo, è ricoverato da quattro giorni all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. Dunque le ultime notizie purtroppo non sono rassicuranti. Negli ultimi tempi fatica anche a camminare, a volte si aiuta con un bastone. Lo ricordiamo, Pelé ha 74 anni. E poi il calcio nostrano, in particolare l'eccellenza, a pagina 21 del Tirreno. Il Cavaniore non si ferma più e adesso pensa in grande. Mercoledì ha conquistato la settima vittoria consecutiva. Il direttore sportivo Olivi guarda al futuro. Occhi ben aperti a caccia di un bomber di razza. I nomi sono quelli di Federico Tosi, Fusco e Colombi. Ma non scartiamo anche altre piste. Dunque davvero Camaiore che fa sul serio. E praticamente di eccellenza si parla anche a pagina 20. L'odore del derby fa risorgere Petrasanta. Parla Cantoni, l'uomo partita. Era l'ultima azione e sono salito in attacco. Siamo stati bravi a crederci fino al novantesimo. E adesso sotto anche con il Viareggio. Viareggio e Petrasanta che, ve lo ricordo, mercoledì ha battuto il Seravezza per 2-1. E poi ovviamente alle porte c'è la partita di domenica fra Viareggio e Petrasanta. Dunque davvero un campionato di eccellenza molto interessante che non si ferma mai. Siamo agli ultimi secondi di trasmissione. E allora vi faccio vedere la pagina della Nazione dedicata alla Lucchese. Con Galderisi, una squadra a trazione anteriore. Nolè esterno basso e Calcagni a destra. Un'ipotesi che già campeggiava ieri. Ne abbiamo parlato anche noi ieri sera nel corso di Curva Ovest. Dunque Galderisi che dopo qualche giorno di ambientamento sta decidendo di rivoluzionare un po' la squadra rispetto all'assetto tattico che a inizio campionato era stato deciso da Pagliuca. Il terzetto dei tre quartisti dovrebbe essere formato da Ferretti, Lossicco e Chianese. Vi ricordo la partita in programma domani pomeriggio alle 15. Allo stadio Porta Elisa arriva il Teramo. È tutto per Buongiorno con Noi, però se volete l'informazione su Noi TV continua, una breve pausa pubblicitaria e poi l'edizione del TG Noi. Allo stadio Porta Elisa